Allora, prima di iniziare volevo invitare Francesca Cisenzi, al buio mia moglie, e la nostra amicona Lida. Facciamo un applauso a loro due, perché a questo punto mi servono. Non so se c'è il mio autore stasera, io l'avevo invitato, il giudice Caruso, che mi ha dato questa fortuna di avere... Ah, cominciamo già. Stavo dicendo che questa è nata nell'81, ha fatto il giro del mondo, ma è la verità che vi dico. E proprio l'altro ieri mi sono sentito con il giudice, dice grazie a lei, no io grazie a lei, le solite cose, è entrata nell'Olimpo dell'Asia e di tutte queste cose qua. In Australia mi ha detto che ha venduto... Non lo so quante copie, tantissime. Stasera per voi, Don Giovanni Balistreri. Bravo! Yeah! Un passo! Ehi! Ehi! Vai! 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 Ehi! Grazie a tutti. 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 Grazie Francesco. Siamo noi e ti ringraziamo Umberto. Grazie veramente per questa ventata di energia e di allegria che porti sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono troppo. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Buonestate a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.